Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi andrò a mostrare le ultime catture che ho effettuato durante le mie immersioni. Quindi ragazzi io vi auguro una buona visione e noi ci sentiamo alla fine del video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per questo video ragazzi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale. Alla prossima.